Vi presento anche gli altri ospiti in collegamento via Skype il senatore di 5 Stelle Danilo Toninelli che io ringrazio per aver accettato il nostro sito. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Senatore Toninelli, secondo lei cosa non ha funzionato di questa procedura? Cioè qual è l'anello debole di questa catena che dovrebbe garantire i cittadini? Ovviamente la premessa è che ci stringiamo ai nostri cugini e vicini francesi per le immane tragedie in un periodo che ha già tante tragedie come il Covid che sta colpendo molto la Francia. Cosa non ha funzionato? È il classico caso in cui purtroppo anche magari grazie ad una collaborazione tra intelligence tunisine e quella italiana il soggetto che era un criminale che era già evidentemente radicalizzato che è arrivato con gli sbarchi fantasma non aveva nessun tipo di segnalazione come soggetto pericoloso perché i rimpatri in Tunisia abbiamo, come è stato detto, un accordo con la Tunisia automatici, quelli forzati, riguardano immediatamente i soggetti che risultano pericolosi. Purtroppo il soggetto non risultava pericoloso. Quello che voglio dire è che si tratta di un sbarcho fantasma. Senatore Toninelli, attenzione, a vent'anni, cioè è vero che a vent'anni uno può avere una, ne sa qualcosa l'Italia, un curriculum da terrorista di tutto rispetto, però sempre di più avremo purtroppo ragazzi sempre più giovani che vengono arruolati proprio per il motivo che lei dice. Non hanno precedenti, non sono conosciuti come fondamentalisti. Ammesso che ancora qualcuno in Tunisia stia facendo un'attività di intelligence come dovrebbe essere fatta. Questo è il grande pericolo oggi? Non so se è così, glielo sto chiedendo. È certamente un grande pericolo. Noi sappiamo di avere in Italia un'importantissima, con una grande storia di servizi segreti e di intelligence anche ovviamente internazionale. Ovviamente però abbiamo bisogno della collaborazione degli altri paesi, la Tunisia, degli enormi problemi anche di natura economica, quindi stabilità del tessuto sociale che ha portato gli integralisti islamici a fare incetta di giovani e giovanissimi pagandoli due soldi e radicalizzando. La ringrazio molto, va detto molto chiaramente a chi ci segue, che i porti chiusi e i porti aperti non c'entrano proprio niente con gli sbarchi fantasma. Per il semplice fatto è che quei barchini con su poche persone, massimo 10-20 persone, non arrivano ai porti ma arrivano direttamente sulle spiagge italiane, nel servizio che avete fatto vedere prima o direttamente sulle scogliere e di lì sbarcano. E quello che è accaduto in quella criminale che è sbarcato insieme ad altri il 20 di settembre è accaduto in vigenza e in vigore ancora il decreto Salvini sulla sicurezza. Cioè non sarebbe cambiato proprio niente e non lo dico con nessuna chiave polemica, ma semplicemente dico a coloro che stanno facendo polemica di non soffiare sul fuoco, perché già c'è qualcuno che soffia sul fuoco delle piazze che protestano pacificamente, ma si insinuano i criminali contro le norme di chiusura del nuovo DPCM. Adesso ci mettiamo anche a soffiare sul fuoco di un'immigrazione collegata al terrorismo, quando sappiamo che non c'entra niente la politica migratoria del conte 1 rispetto al conte 2, perché il decreto Salvini c'era e il decreto Salvini c'era anche il 20 settembre, ma ricordiamo che dal 21 settembre ai noi, il giorno dopo lo sbarco di questo criminale, è entrato un accordo con la Tunisia che porta 500 al mese, e ne sono arrivati 6.000, 4.000 scusate, negli ultimi mesi, tutti rimpatri in Tunisia perché è stato fatto un accordo. Con la Tunisia l'accordo c'è, la difficoltà c'è con altri paesi in cui non ci sono accordi.